Io sono di là per l'ordine del giorno che era bello, ma questa è andata come è andata. Noi, io personalmente, diciamo, apprezzo con piacere e sono favorevolissimo alla creazione di un gruppo equilico di un gruppo distretto che... Anche perché non c'è cosa migliore, diciamo, di questioni importanti, come questa è la della comprovazione e quella del teatro, che ci sia un'informazione quotidiana, perché così, evidentemente, notizie, che noi non abbiamo, se c'è un gruppo di tecno che riesce a seguire la cosa, si stendono anche impugnimenti che arrivano in consiglio. Non so, ma credo che, come se ci stessi presenti, ci sono alcune questioni, anche per la soluzione, come se ne ha più, ci sono obiettivi che vogliamo raggiungere tutti che non hanno valore. Con cui io, personalmente, se c'è da fare un gruppo di tecno che sopra questa questione, sono disponibilissimo.